ciao grazie di essere qui 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 come oggi 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 video mukbang premessa non li faccio da un anno almeno secondo me di più ma dovremmo io adesso vi spiegano anche il perchè però 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 se vi sono mancati questi video se vorreste che ne facessi altri fatevi sentire forte mettete mi piace commentate condividete questo video fate quello che volete fatevi sentire mettete tante mi piace proprio impegnatevi per fare in modo che io capisca questo video apprezzato perchè non è la mia categoria di video preferita e ultimamente stava andando anche male inoltre per una serie di cose insomma quindi ditemi fatemi sapere ci riprovo allora andiamo a presentare ciò che mangerò allora sarà a fuoco? si oggi abbiamo poche con ovviamente senza pesce le carni abbiamo cipolla fritta avvocato funghi anche a wakame dopo fritto che di solito erano due bastoncini interi oggi me l'hanno spezzettato e c'è questo anche dopo vellutato che non mi fa impazzire tutto qui senza panatura che non piace tanto neanche a me forse lo ce l'ho anche lì vedremo e sotto c'è il riso la salsa di riyaki vado un pochino mescolare ma intanto prima facciamo la thumbnail ok spero vedete bene il tutto guardatolo un pochino dall'alto ma non sapevo bene come farlo andiamo a mescolare il tutto allora in realtà vi dico adesso che lo giro mi mancava un pochino girare questi video però tutto questo tempo non mi veniva da girarli non so perchè adesso vi spiego il perchè il perchè principale è che oddio ma io non ne giro un sacco veramente da tantissimo perchè non ne ho mai girato un po' da quando viviamo insieme a mia marina non lo so comunque il fatto è che non già molto spesso arrivavo con una fama incredibile a mangiare perchè magari dovevo mangiare alle 3 aspettando il silenzio perchè all'ora di pranzo c'è sempre casino e in cucina non posso registrare perchè il prego fa un rumore tremendo cominciamo a mangiare intanto che abbiamo della gavagame dei funghi del riso e della cipolla fritta se ti manca sto dopo e ci metto io la panatura in mezzo questa c'è la panatura del tofu che no io che Comunque, come al solito, parleremo di serie tv in questo video, come in tutti i video in cui mangio, e di serie tv nuove, 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 in realtà ne ho viste veramente poche, perché più che altro ho fatto dei rewatch, vabbè adesso vi dico, magari potrei anche guardare su Netflix, poi se mi sono perso qualcosa, non mi ricordo tutto, allora partiamo dalla prima, non farò spoiler, non farò spoiler solo cosa penso della serie tv o della stagione che è appena uscita, ma niente spoiler, giuro vi dirò solo, penso che sia carino questo, penso che la serie tv è andata bene in montamane, spaventosa, passi veloce, passi lenta, ma giuro niente spoiler, non sono quel tipo di persona, partiamo da Stranger Things, oggi è il 3 luglio, è uscita ieri, ovviamente ho già visto le ultime due puntate, avevo già visto l'altro pezzo della quarta stagione, allora, troppo ancora, è un po' complicato mandare così, non ho una cultura delle serie tv cinematografica assurda, quindi vi dico la mia opinione da onesta binge watcher di Netflix, molto semplice, a me è piaciuta, molto, la quarta stagione come mi piace in generale Stranger Things, il mio problema è che io non sono brava a fare attenzione ai dettagli delle serie tv e quindi molto semplicemente capisco fino all'ultimo cosa succederà, anche se magari provano a farlo capire, e quindi c'era un po' da capire insomma in questa stagione, bisognava star concentrati, alcune persone l'hanno trovata addirittura un po' troppo paurosa, nel senso che fanno impressione a certe scene, a me non potta impressione, comunque io sono una persona relativamente impressionabile, quindi un po' per me no. ora praticamente rimango tutta, dobbiamo aspettare due anni per la quinta, quindi penso che fra un annetto pare il dry watch completo, e devo dirvi, non so, mi è piaciuta, a me Stranger Things piace, e le messe le preferite in assoluto, no? preferisco serie più leggere, la riguarderei sì, bene comunque per quanto seria, a me fa anche ridere, e poi mi piace tantissimo l'ambientazione degli anni 80, il fatto che la musica, io adesso sono in fissa con la playlist di Spotify, appunto di Stranger Things, con tutte le canzone degli 80, stupenda, stupenda, e quindi questa cosa mi piace tantissimo, mi piace guardare gli outfit, mi piace guardare i colori, cosa usavano gli oggetti, molto bella per questo, sicuramente l'ultima stagione è proprio più intensa, e io sono una persona a cui in realtà piace vedere anche, non so come dire, la quotidianità, vi faccio un esempio, a me i libri di Harry Potter, come i film di Harry Potter, mi piacciono più la prima parte, la seconda parte di azione, eccetera, perché mi piace più vedere come vivono Hogwarts, come le lezioni della quotidianità, ma non l'azione, non sono troppo tipa da azione, e però comunque c'è poco da dire, è molto bella questo scettone, cioè si vede che proprio è una serie tv epica, e quindi l'ho guardato nei miei commenti, anche se avete guardato queste serie tv o no? un po' in ordine, non prima di scordarmi, raga mi sono guardata tutta Grey's Anatomy, tipo da settembre a marzo, mi sono guardata tutta Grey's Anatomy, ce l'ho fatto un binge watching pauroso, infatti mi dispiaciuto anche guardarla così tanto in fretta, però io la tengo proprio sotto anche come compagnia, cosa che appunto mi dispiace, perché in realtà era una serie che andava un po' più goduta, e anche qui niente spoiler perché io non l'ho mai vista, io me l'immaginavo completamente diversa comunque come serie tv, non lo so, me l'immaginavo diversa, anche da come ne parlavano le persone, e devo dire che non mi sono pentita comunque di averla vista, unica cosa se posso dire, molto meglio le prime stagioni rispetto alle ultime, ma non come personaggi, è che non so adesso soprattutto l'ultima stagione, non so se abbiate Disney Plus in cui si può vedere l'ultima stagione, è troppo nuovo all'ospedale, non lo so, sono talmente abituata alla grafica solita di Grey's Anatomy, nelle ultime due stagioni è troppo aumentata la qualità, davvero non so come altro dire questa cosa, quasi non si riconosce la serie tv, non mi interessa di personaggi perché alla fine i personaggi vanno e vengono, e sono molto brava comunque a farti affezionare ai nuovi personaggi e vabbè a farti soffrire, quelli che non ci sono più però a farti soffrire tantissimo, però è proprio, sarà forse, sto nello spoiler si sa, che la diciassettesima stagione è stata sulla pandemia, e quindi è stata veramente pesantissima, ma giuro di un pesante, che praticamente sono state certe puntate, perché, perché era molto pesante da guardare e non lo so, è da lì mi è scesa tantissimo la serie tv, tanto. adesso, la guardo perché, ormai voglio sapere come va, però, peccato, peccato, chissà quando finirà poi, sembra tipo beautiful veramente, per chi non lo sapesse, penso che it's not me, e Sanatomy è forse la più famosa serie tv medica, ha 18 stagioni, e si chiama Grey Sanatomy perché la protagonista è Meredith Grey, che praticamente la vedi crescere, passa da quando lei inizia a fare il tirocinio insieme ad altri compagni, cioè l'interno, non so come dire, comunque inizia la specialistica, non so come dire, per diventare chirurgo, e tutto è ambientato nel reparto di chirurgia, ecco, e niente, io sono appunto, è un drama medico classico, anche se io sono sempre fan e carita di Dr. House come primo medical serie, gioccio, Dr. House, Dr. House nel cuore, piacerà. Comunque, poi veniamo, ho fatto il rewatch di Jane the Virgin, che è sulle tulise, e che dire, Jane the Virgin è una serie tv comedy, leggera, però non è tipo della serie, che è proprio, cioè non è come di tipo, ma anche Modern Family, o come Friends, o come New Girl, non è così, è meno scemo, non so come dire, ma avete capito, comunque, è meno fatto giusto per far ridere, è proprio una sitcom, anzi è una telenovela, ed è praticamente questa, la storia di questa ragazza, non vi faccio sbagliare proprio all'inizio questa storia di questa ragazza, la cui nonna l'ha praticamente scioccata da piccola e gli ha detto che dovrà, ciò che è fondamentale, rimanere vergine fino al matrimonio, e praticamente lei è vergine, amoroso, non è un ragazzo, ma comunque è rimasta vergine, e praticamente, questo c'è nella prima puntata, va dal ginecologo, fa un, prepara un pub test, ma per un motivo, la ginecologa invece di fare il pub test, le fa un'assimilazione artificiale, e quindi rimane incinta, vergine, e quindi William the Virgin ha cinque stagioni molto belle, e a me piace tanto, è una delle mie serie tv del cuore, e la trovo fatta molto bene, la trovo un giusto equilibrio, avrà, fa ridere, ma fa anche riflettere, e insomma, molto carina, appunto si basa sulla vita di questa Jane, e sulle sue relazioni anche amorose, ma anche di sua madre, di sua nonna, eccetera, eccetera, molto carina, cercate qualcosa di leggero, ma datelo, però per far ricapire le puntate comunque durano 40 minuti, non 20, come la tipica puntata, di una serie tv comedy, tipo Big Bang Theory, che amo, mio marito tipo ha fatto Harley Watch, però 5 volte Big Bang Theory, non so come abbia fatto, comunque, andiamo, e, sempre per quanto riguarda invece serie tv, da vedere mentre mangiamo, noi guardiamo le serie tv comedy, di quando mangiamo, e abbiamo guardato Big Bang Theory, in Modern Family, Good Girls, ma non ci è piaciuto per niente, non sto neanche a parlarvele, non ci è piaciuto per niente, buesantissima, non era comedy comunque, e questo abbiamo guardato, aiuto, abbiamo fatto il rewatch di Big Bang Theory, insieme a Modern Family, rewatch di Modern Family, insomma, e adesso stiamo guardando Friends, non avevo mai guardato Friends, in vita mia, cioè, se lo sapete, quelle puntate a volte un po', cioè puntate che ti venivano a caso su Mediaset, ma mai vi sto bene, ecco, e devo dire che mi sta piacendo moltissimo, probabilmente da solo non lo guarderei, con mio marito mi piace, cominciò a essere pieno, e mangiamo le cose belle e croccanti, così faccio un po' di suoni, e allora, Friends, siamo solo nella prima stagione, quindi, unica cosa, ovviamente a me dati agli anni 90, mi avevano avvisato che ero omofoba, cioè, fa quasi ridere, quando non lo facciano con cattiveria, però, fa molta impressione, perché evidentemente all'epoca, era così vasto, non era cattivo, era così la normalità, e fa molta impressione, però, essendo che è degli anni 90, cioè, lo sai, i miei amanti, cioè, a meno che non sia una cosa che ti dà estremamente fastidio, perché è una cosa che ti colpisce di persona, dal resto, cioè, è inutile condannare questa cosa, perché, negli anni in cui è stata fatta, era così, ed è triste, ok, però è così, e basta, invece, se è una cosa, se le patute del nonere, ci sono, adesso, un altro paio di monica, questo paio grosso, e, e quindi niente, sono molto contenta di aver iniziato questa serie tv, e, e capisco, perché molti, ci siano molto apprezzati a questa serie, allora vediamo, che cosa ho guardato, che cosa ho guardato, che cosa ho guardato, mi sa che devo, fare il check di Netflix, no, no, Tembrella Academy, ecco, allora, anche qui non vi preoccupate, niente, spoiler, però, Tembrella Academy, è una serie tv, non so se, originale Netflix, però, che, parla di questo, gruppo di ragazzi, con tutti dei poteri, soprannotionali, tipo una, ha il potere che, un potere che ti sussurra, tipo, com'è che dice, io penso che tu, mi ricordi, comunque ti sussurra un ordine, e quindi quella persona, non lo so, si picchiera da sola, per dire, un altro, ha a fare con i morti, eccetera, un altro, beh, super forzuto, poi cosa c'era, un altro, si teletrasporta, non so, questo è così, e, 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 questa appunto, Accademia, che si chiama, Ombrella Academy, di questi supereroi, è uscita la terza stagione, e, non mi è piaciuta, l'ho trovata, troppo complicata, non so se avete visto, tipo, Dark, è un misto fra, e non sto facendo spoiler, perché tanto il time traveling, fin da subito, in questa serie, è un misto, però, fra Dark, c'è proprio, complicato, ad un certo punto, devi capire tutto, e sono andata, a guardare, che cosa, voleva dire il finale, per farmi capire, e, fra Dark, e, un'altra serie tv, che adesso non mi viene in mente, cos'era un'altra serie tv, di supereroi, non mi viene in mente, comunque, non so, già vista, bene, non so come dire, mi aspettavo molto di più, invece, molto di più, le prime due stagioni, un'altra cosa, che, non sono la più esperta, per giudicare, quindi, però, praticamente, ero molto curiosa, di vedere, come avrebbero gestito, il fatto, che, un attore, Elliot Page, nelle prime due stagioni, interpretava, un personaggio femminile, perché, l'altro, non aveva ancora fatto, coming out, infatti, ha fatto il passaggio, female to male, e, perdonatemi, se dirò qualcosa, di sbagliato, sto cercando di dire le cose, il meglio possibile, e quindi, nelle prime due stagioni, non avendo ancora fatto, coming out, aveva, l'aspetto femminile, interpretava, un personaggio femminile, adesso, invece, prima della terza stagione, tra la seconda e la terza, ha fatto coming out, e, ha cambiato, ha cambiato nome, non so come dire, ha, sì, ha un nome maschile, e, e quindi, volevo capire, infatti, nella prima puntata, della terza stagione, interpreta ancora, questo personaggio femminile, e, mi chiedevo, interpretare ancora, il personaggio femminile, perché, alla fine, un attore, regita, quindi, però, non pensavo fosse troppo giusto, insomma, l'avrebbe messo in imbarazzo, comunque, non sarebbe stato troppo, facile, no, per l'attore, e, praticamente, gli fanno fare la transizione, nella serie, però, c'è tipo, a un certo punto, così, si taglia i capelli, e dice, in realtà, lo sono sempre stato, non lo so, e tutti capiscono la perfezione, così, e, non dico che sia un'occasione persa, perché, non è proprio il tema, della serie tv, c'è per nulla, 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 quindi, sicuramente, mi ha messo in difficoltà, perché non potevano, approfondire, quasi per nulla, perché non c'entrava assolutamente niente, però, è un po' tipo, ah ok, sei sempre stata nostra sorella, adesso sei nostro fratello, ok, e, non so, non so cosa pensare, è stato un po' strano, però, avevo anche appunto, la curiosità di vedere, come avrebbero gestito, questa, questa cosa, perché, immaginavo, quando si è gestita, in qualche modo, comunque, e va bene, c'è questa serie tv, allora, le prime due stagioni belle, e alla fine, guardi anche la terza, vero? non lo so, non mi è, non mi ha detto, molto, mi sono molto sforzata, di vederla, un'altra, invece, serie tv, che ho proprio lasciato lì, a mani in cuore, tantissimo, e Lucifer, non ho neanche guardato, l'ultima stagione, perché, la quinta, mi va talmente, tanto annoiata, avevo fatto talmente, tanto uno sforzo, che no, e, Lucifer, vale tantissimo, la pena, nei prime quattro stagioni, Lucifer, come magari si capisce, dal titolo, della serie tv, è una serie tv, che porta appunto, del, di Lucifero, che vive, a Los Angeles, e, insomma, fa tutte le sue cose, da diavolo, e, è una serie, è una serie tv, diciamo, poliziasca, e si affeziona, a questa appunto, detective, e, fa lui anche il detective, ecco, e, dopo ci sono tutte, anche delle cose angeliche, eccetera, eccetera, però, insomma, questo è, sono molto carino, prima stagione, perché lui è simpaticissimo, adesso è un bell'uomo, ma non il mio stile, dopo, non so, la tirano troppo avanti, siccome andava finita, la quarta stagione, peccato, avrò un attimo, Netflix, che voglio capire, se ho guardato, qualcosa altro, sì, allora, ho guardato Dynasty, non so neanche se l'ho finito, ho guardato Dynasty, ma, con le prime due stagioni, il resto, veramente, no, 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 non so, raga, poi, ultime due, ultime due, poi basta, ovviamente, in questo periodo, ne ho guardato, molto, molto di più, ma, allora, Bridgerton, ne avevo, leggermente, parlato, su Instagram, per chi, vivesse, in un altro mondo, e non sapesse, di cosa parla Bridgerton, è praticamente, questa rettiva, ambientata, aiuto, nell'epoca, region, sì, Inghilterra, e, sì, la prima, Bridgerton, è il nome di, una famiglia, nobile, e, la prima stagione, come protagonista, è, la, la ragazza, più grande, della famiglia, che è in età, di matrimonio, quindi, c'è tutta la, ci sono tutti, i balli, eccetera, per, aiutarla ad accasarsi, con il miglior, pretendente, la seconda stagione, il pretendente, invece, è Bridgerton, quindi, è un uomo, Bridgerton, e, la prima stagione, è carina, molti sono impazziti, per me è carina, la seconda, mi è piaciuta da matti, voglio dire, volendo, si può guardare, anche sulla seconda, tanto, sono interconnessima, e, in realtà, i protagonisti, sono due Bridgerton, una, sempre ragazza, in età da matrimonio, e quindi, partecipa così, e Luisa, però la cosa, che veramente, mi ha più coinvolto, è la storia di Anthony, del fratello grande, e, mi è piaciuta molto, 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 e, mi ha preso un sacco, mi ha, di trasporta, comunque, in quell'epoca, ovviamente, è tutto molto, modernizzato, eccetera, la cosa bella, è che le disegni, i balli, suonano in versione classica, le canzoni, che ci sono ora, bellissimo, a dire, subito, mi sono stati a carla, playlist, e, il resto, mi è piaciuta, mi è piaciuta, più la seconda, e la prima, ditemi voi, invece, se avete preferito, la prima, la seconda, per me, proprio, non c'è, non c'è paragone, mi è piaciuta molto di più, sono troppo piccoli, insieme, ultima serie, Elite, allora, diciamo che, è veramente, molto spinta, ma non che io, se non sono tarillina, però, c'è bisogno, tutte le scene, spinte, eccetera, molto adolescenziali, infatti, è una serie di adolescenziali, poi, l'ho trovata, ancora, guardabile, però, anche qui, le prime, è stata, una, molto più carina, le prime due, le prime tre, l'ho guardata, perché passa in fretta, e perché alla fine, comunque, è carina, però, ormoni, veramente, impazziti, dappertutto, non va, è ingestibile, questi, gli ormoni, non riescono a trattenersi, manco, per un secondo, calma, ce la capisco, tutti bellissimi, tutti bellissimi, sicuramente, volete saltarvi tutti, addosso, però, calmina, e quindi, niente, tra l'altro, ho guardato un po', la cegu, questa stagione, perché, mi ricordavo, per niente, la stagione prima, non so se ci sarà una sesta, stagione, penso, lo guarderò, ma con molta poca attenzione, giusto fare, e niente, che poi più cresco, più mi allontano, da questi generi, quindi, anche lì, e questa è una serie tv, continuo a dire, comunque, sono meglio, quelle serie tv, di una volta, come tutto, no, la musica, di una volta, serie tv, di una volta, sono vecchie, ebbene, io sono piena, anche qui, ultimo, ultimo boccone, perché, mandando lentamente, poi ti riempi, molto prima, cioè, ti si confie, allo stomaco, e non riesce a finirlo, sarà anche un po', il mio pranzo, di domani, e non riesce a finire, e non riesce a finire, guardare questo video, siete stati con me, tutto questo tempo, 40 minuti, più o meno, a mio, e, se siete arrivati, fin qui, mettete le emoji, della tusolina di riso, non so se c'è, oppure del camaretto, oppure dell'avocado, quello che volete, nei commenti, e io, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, proprio, si è aggiunta, allora vorrei passare le luci e augurarti augurare a te a te una buona 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 notte un sognitore ho fatto vostra luce good night good night sweet dreams sweet dreams buona notte dulces sueños buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte mie piccole boge dolce un bacchanat che respira qui se buona notte buona notte 15 20 24